La Croce Rossa di Pesaro lancia un appello per una famiglia in cerca di una casa da ormai più di un anno. Ospitati infatti dai volontari per un periodo che si sarebbe dovuto limitare a qualche settimana, hanno visto l'attesa prolungarsi di circa 18 mesi. Tengo a precisare senza subito che si tratta di una famiglia, sì che proviene da Libia, però che risultano cittadini italiani, quindi sia la madre sia i figli minori sono cittadini italiani a tutti gli effetti. Un giorno l'arma dei carabinieri ci chiese il supporto per l'accoglienza di una famiglia libica e la Croce Rossa di Pesaro è stata operata sin da subito per trovargli un alloggio all'interno della propria foresteria, un alloggio che doveva essere temporaneo per qualche settimana nell'attesa di trovare una collocazione definitiva. Questa temporaneità si è protratta ormai da un anno e mezzo e la Croce Rossa di Pesaro è garantita con risorse ed energie proprie grazie anche al contributo dei propri volontari, vitto e alloggio all'interno della propria struttura, che è una foresteria attualmente però totalmente inadatta per dare una dignità a una famiglia che ha bisogno comunque di essere reinserita all'interno del tessuto sociale. Sono stati convolti i servizi sociali dell'amministrazione comunale, i quali si sono adoperati all'interno delle loro competenze per collaborare nell'attività svolta dalla Cri di Pesaro, così come anche la Caritas nella fase iniziale ha dato un suo supporto. Oggi tuttavia ci troviamo nella difficoltà nel dare una soluzione definitiva per questa famiglia. Esistono risorse pubbliche e private disponibili per sostenere la famiglia nella locazione di un immobile, tuttavia siamo nelle difficoltà di trovare un immobile adatto e idoneo a questa famiglia. Quindi chiediamo a tutta la cittadinanza, a tutti coloro che possono essere interessati, un supporto di contattarci e di rendere disponibile l'immobile che eventualmente hanno per questa famiglia. La solidarietà pesarese poco dopo l'appello si è già fatta sentire. Una chiamata infatti è già arrivata alla Croce Rossa, che ricorda di come a far da garante per l'affitto vi sia il comune, che ha predisposto un contributo di sostegno, oltre allo stato lavorativo del padre. Pesaro Solidari si è svegliata e ha già dato un primo segnale. Stamattina abbiamo ricevuto la prima chiamata di un immobile disponibile. Nei prossimi giorni faremo insieme alla famiglia una verifica circa il rispetto delle condizioni per poterlo locare, ma già un primo segnale è arrivato e questo ci fa molto piacere. L'amministrazione comunale ha già reso disponibile un contributo mensile per la famiglia per le spese che sostiene per la locazione di un eventuale immobile. Il marito ha un'attività lavorativa, quindi svolge in qualità di dipendente in un'azienda del nostro territorio. Quindi sì, direi che hanno anche una situazione lavorativa e si impegnano in tal senso. Come Croce Rossa riteniamo importante comunque all'interno di questi percorsi garantire la dignità dell'essere umano, della persona in quanto tale, tanto più in una condizione in cui ci sono dei minori presenti. Per questo la nostra foresteria non si presta più per fare questa attività di accoglienza perché possiamo svolgere in maniera dignitosa solamente un'accoglienza temporanea, emergenziale e non un percorso duraturo.